mi hai smontato l'albero infatti dicevo ma come l'hai fatto a far arrivare quel giro lì mi ha smontato l'albero e oramai dobbiamo togliere tutte le cose togliamo gli addobbi e le mettiamo tutte e due aspetta perché oramai abbiamo smontato è sdelenato l'albero è lungo ma come mai ma come mai fai tutto questo giro sto bruciato e qui ma non doveva fare tutto questo giro non riesco a capire come hai fatto tu a sbloccarla a prenderla e farla arrivare fino a lì perché da qua quando è partito da qua e lì andava sulle porte qua dietro faceva soltanto il circolo piccolino qua davanti alla punta resta bene resta bene min Grazie a tutti